Sabato sera nella Palla Battisti il big match del campionato di Serie B tra la Paffoni e la PMS, in paglio il primato nel girone, tanti eventi collaterali legati alla solidarietà, in particolare nel corso dell'intervallo verrà dato, consegnato un assegno gigante alle sette famiglie che l'associazione Kenzio Bellotti ha aiutato attraverso la sottoscrizione a premi raccolti 14.000 euro a favore dei bambini. Prima di tutto vorrei ringraziare tutte le persone che hanno capito qual è stato l'iniziativa della nostra associazione, 14.000 euro sono soldi e sabato sera doneremo a questa famiglia questo piccolo contributo. Spero e mi auguro che sabato sera ci sia tanta gente perché c'è questa festa ma anche la prima squadra ha bisogno di un forte apporto da parte del pubblico perché vogliamo ritornare in testa alla classifica e pertanto l'invito è essere presenti sabato sera tutti al Palazzetto, al Palabattisti a Verbagna. Non solo la consegna degli assegni alle famiglie dei bambini, un'altra iniziativa sponsorizzata e sostenuta dal centro commerciale dell'Isola Ipercop, direttore. Sì, come sempre siamo vicini alle iniziative promosse dal territorio, in particolar modo a questa che vedrà la sua sponsorizzazione sabato in occasione della partita della Fulgor con Moncalieri. Un'iniziativa per i bambini orfani dell'hotel Rigopiano, quindi invitiamo tutti i tifosi, tutte le persone che andranno al Palazzetto ad acquistare queste, a dare un'offerta per queste due bandierine in modo tale che si possano aiutare i bambini orfani e quindi oltre ad andare a festeggiare una giornata di sport anche a fare della beneficenza per chi ne ha bisogno.